Allarme personale per i parchi d'Abruzzo. Dipendenti in esubero e che non possono rimanere in organico. Una situazione che rischia di ingessare le attività degli enti e mettere profondamente in crisi la sopravvivenza stessa. I dipendenti hanno chiesto garanzie direttamente al deputato Nazario Pagano nel corso di un incontro che si è tenuto oggi pomeriggio a Teramo presso la sede della CGL. Abbiamo la medesima situazione, una pianta organica ormai ferma al 2013 dove c'era stato il primo taglio durante la spending review, quindi che ha ridotto a 34 unità un parco di 150.000 ettari, comprendenti tre regioni, cinque province, 44 comuni. E poi del personale che era stato stabilizzato proprio per garantire i livelli occupazionali di questo parco nazionale del Gran Sasso e del parco della Maiella e che invece sono state messe queste persone in sovrannumero, quindi tutte le volte che una persona cessa di lavorare presso i nostri enti il posto non può essere rimpiazzato, quindi viene cancellato, quindi come se quella funzione non è più importante per l'ente. Questo non può succedere per l'importanza delle attività in capo all'ente parco? Soprattutto per questo, ma tra un po' non potremmo svolgere nemmeno le funzioni proprio essenziali dell'ente parco. Resta critica anche la condizione dell'organico del Parco Nazionale della Maiella, un rischio morte per gli enti che rischia di condizionare la sopravvivenza stessa di piccoli e piccolissimi comuni che ricadono nei confini del parco. Cercare di portare a termine e ridare dignità e lungimiranza a questi barchi che forse, ci permettiamo di sempre di più sottolineare, sono ormai forse gli ultimi avamposti per creare una lungimiranza di uno sviluppo di economia sostenibile nei territori.